Ciao a tutti, spero che siete buoni e sicuri spero che trovi e che trovi 4 key e un po' di nuova oggi zoom in sotto dove ci sono alcune bellissime il zoom per il macro non è molto bene proviamoci qui ovviamente non funziona molto bene con questa orange ma in generale l'orange fa molti problemi quindi è molto critico ora ho bisogno di tap per ottenere il focus proviamoci qui proviamoci qui proviamoci qui qui, qui, qui l'autofocus è più veloce per ottenere il focus proviamociare l'autofocus proviamociare l'autofocus non l'autofocus non è più veloce 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 sento che è molto veloce comunque qui siamo per l'alt здоровo a as Grazie.